Sono Francesca Riglietti dell'Ufficio Orientamento e Recruitment di Galdus. In questo video vi presenterò l'offerta formativa di Galdus per il post-diploma e per quanto attiene i percorsi IFTS e ITS. L'offerta formativa di Galdus verte su quattro settori, oreficeria, informatica, amministrazione e agroalimentare. L'esperienza trentennale di Galdus nel settore della formazione ci consente di arrivare oggi a questo risultato, ovvero il 96% dei nostri studenti, al termine di ogni percorso formativo, si inserisce a livello occupazionale. Ma ora iniziamo insieme questo viaggio e partiamo dal descrivervi la cornice dentro il quale si inserisce l'offerta formativa, ovvero il sistema IFTS e ITS, che è un sistema finanziato da Fondo Sociale Europeo e Regione Lombardia. Si tratta di percorsi di alta formazione e specializzazione tecnica che si inseriscono a metà tra il mondo accademico universitario tradizionale e il mondo del lavoro. Vediamo nello specifico che cosa sono. Sono percorsi formativi della durata di uno o due anni. Vengono progettati e realizzati con le aziende che identificano i profili professionali necessari. prevedono una formazione tecnica professionale con tirocini in Italia o all'estero per almeno il 40% del corso. A chi sono destinati? A giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Questo vincolo riguarda solo i percorsi IFTS, non c'è questo vincolo per gli ITS, che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, ovvero il diploma di maturità, o del diploma professionale e della IFP. Devono essere residenti o domiciliati in Lombardia. Perché scegliere questo tipo di percorsi? Perché sono innovativi. La metodologia didattica è esperienziale, riflettono le esigenze del mercato del lavoro e garantiscono il più alto esito occupazionale tra i percorsi formativi post-diplomati. Ecco l'offerta formativa per l'anno 2020-2021. Dicevamo, i settori sono quattro, oreficeria, informatica, amministrazione e agroalimentare. Galdus non è però l'unico ente inserito all'interno di questi progetti, ma Galdus si inserisce all'interno di una partnership di enti. Da un lato le fondazioni, agro risorse e innovaturismo sono le due fondazioni enti capofila di questi progetti, dall'altro le università, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Università degli Studi di Pavia. E poi abbiamo le aziende. Come vedete nell'immagine, le aziende sono tutte conosciute, famose e prestigiose. Quindi sono aziende che si prestano a derogare la formazione fin dalle prime fasi della progettazione. Entriamo ora nello specifico dei settori e partiamo con il settore dell'artigianato artistico oreficeria. L'orafo è uno dei mestieri più antichi del mondo, le tecniche sono molteplici e in continua evoluzione. Grazie alla collaborazione con l'importante azienda Pomellato, è nata in Galdus un'accademia di alta oreficeria, un percorso di specializzazione completo della durata di tre anni che offre l'opportunità di imparare direttamente dai maestri i segreti dell'arte orafa. Lezioni in laboratorio all'avanguardia, partecipazione a importanti fiere di settore in Italia e all'estero, tirocini in azienda, ti consentiranno di sviluppare il tuo talento e alla fine del percorso sarei pronto a entrare in questo mondo. E ora andiamo al settore dell'informatica. Qui le aziende sono alla costante ricerca di personale tecnico in grado di rispondere al crescente bisogno di digitalizzazione che si manifesta in tutti i campi. L'offerta formativa, quindi, è in continua evoluzione e segue di pari passo lo sviluppo tecnologico. Professionisti di aziende leader nel settore hanno scelto di mettersi a disposizione in un percorso formativo ricco di lezioni esperienziali, project work e tirocini. Avrai così la possibilità di diventare uno dei profili più ricercati nel mercato del lavoro. Passiamo ora al settore della contabilità, amministrazione e contabilità. Da più di dieci anni Galdus ogni anno attiva percorsi di specializzazione in questo settore, in collaborazione con aziende leader e studi professionali. In questo corso potrai approfondire tutte le tematiche legate alla tenuta della contabilità, la stesura del bilancio, gli aspetti fiscali e tributari, il controllo di gestione del budget, l'utilizzo di software gestionali e modalità innovative di organizzazione aziendali per l'ottimizzazione dei processi, quali la metodologia Lean. Ogni anno studi professionali e imprese inseriscono nel proprio organico giovani in uscita dai nostri percorsi, apprezzandole la capacità di coniugare il rigore dei conti e lo sguardo rivolto all'innovazione. E ora passiamo all'ultimo settore, quello agroalimentare. Qui la tradizione e la particolarità delle produzioni agroalimentari made in Italy costituiscono un patrimonio di grande valore. La digitalizzazione dei processi produttivi sta rivoluzionando il settore della produzione agroalimentare e della ristorazione. Se sei un appassionato in questo ambito, Galdus offre corsi di specializzazione in questo settore. Imparerai a coniugare molteplici capacità, dalla conoscenza della produzione e dell'organizzazione del servizio ristorativo, all'applicazione di strategie di marketing e promozione dei prodotti italiani, all'utilizzo di tecnologie digitali a supporto dei processi di lavoro. I nostri corsi creano dunque figure professionali in grado di conoscere e valorizzare i prodotti tipici italiani e di trasformare i processi utilizzando le più innovative tecnologie digitali. Su tutto questo è possibile perché ogni attività di Galdus pone al centro l'essere umano. Galdus è un ente che ha un'esperienza trentennale nell'ambito della formazione e della ricerca del lavoro. Abbiamo a cuore la crescita personale e professionale dell'uomo, sia che sia un manager, un disoccupato o un giovane in cerca di formazione. Con Galdus ciascuno ha la possibilità di scoprire, valorizzare il proprio talento e trovare il proprio posto nel mondo. Più di 2.000 imprese hanno già scelto di accompagnare i nostri giovani in questo percorso. Più di 5.000 giovani ogni anno scelgono di fidarsi e farsi accompagnare. Quindi cosa stai aspettando? Se vuoi conoscere tutti i dettagli dell'offerta formativa, prenota il tuo Open Day sul sito web galdus.it oppure richiedi un colloquio di orientamento scrivendoci a orientamento-galdus.it. Riceverai altro materiale informativo e scoprirai come accedere alle selezioni. Affrettati però, perché i posti sono limitati.